uno spettacolo della natura cari amici dell'inchiostro fresco vi presentiamo mago nata due giorni fa è già una star no no vai dentro la mamma ecco che la mamma la che bello ma guarda siamo qui alla bellaria così potranno venire anche i bambini delle scuole a vedere ma che bello guarda sta mangiando adesso ecco spettacolo della natura che bello per te che mi metto qua così questo mi sembra un albero bello hai proprio un bel maneggio vieni fate vedere saluto poi gli amici dell'inchiostro ciao prossimo anno vedete giù coi cavallini coi poni travestiti da renne per natale per i mercatini di natale vedremo va bene salutiamo il nostro mago mago la mago ciao ciao ciao